Allora dopo il mini spot, come da attese, Flores. Torno, allora, io sono sempre, non ho mai creduto ai 5 Stelle che dicevano che non esiste più la destra e la sinistra. Io sono sempre stato convinto che destra e sinistra esistessero, nonostante quello che dicessero Salvini e i 5 Stelle. E cosa è successo probabilmente? Che Salvini è stato talmente di destra che ha spinto i 5 moderati dei 5 Stelle e guardarsi intorno. Io vedo, Pagnancelli mi dice che i 5 Stelle stanno salendo dopo l'accordo. Sì, tutti i sondaggi lo dicono, abbiamo visto 4 punti, 3 punti. Non è curioso dal mio punto di vista perché se prima perdevano erano perché erano alleati con qualcuno che non rispondeva alla natura dei 5 Stelle. Io sono sempre stato convinto che fossero una sorta di partito di centro che si guardava intorno, radicale, ma un partito di centro che si guardava intorno, un pochino più attirati dai temi sociali, dalla soluzione dei problemi come la povertà, del reddito. Salvini ha fatto di tutto perché si rendessero conto che forse la loro natura ad ora li portava da una parte. E Grillo ha detto io ho creato tutto questo, ho messo in moto tutto questo, possiamo finire, perché lo dice Salvini, è il momento forse di upgradarci, di trovare un professore. Ora, la figura del professore sensibile, attenta alle istituzioni, che studia le questioni, che razionalizza, che mette d'accordo, è una tipologia tipica del PD, però. È una tipologia tipica del PD, una figura politica che ha imposto dai tempi di Prodi, dai tempi di Ciampi, poi con Enrico Letta. Piano piano si è amalgamato questo mondo. Non so, D'Alema dice da adesso possono stare insieme per sempre, non lo so. Però di certo si guardano due realtà che sono più simili di quello che non si pensasse qualche momento.